Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City, in apertura la politica cittadina con le prime critiche e polemiche contro la nuova giunta del sindaco Palomba. Punto sull'emergenza Covid nel Vesuviano, ieri giornata nera per Torre del Greco dove sono stati registrati tre decessi. E' ancora caos invece sulle scuole, abbiamo chiesto ai cittadini torresi se sperano in un ritorno totale alla didattica a distanza. In conclusione lo sport con la Turris che subisce la terza sconfitta consecutiva contro la Viterbese. Questo è altro nei nostri servizi. Dopo la presentazione della nuova giunta comunale di Torre del Greco arrivano le prime polemiche ed opposizioni. L'iter che ha portato al nuovo esecutivo è stato caratterizzato da alcuni cambi di schieramento all'interno delle correnti del Consiglio. I nuovi assessori sono stati, in alcuni casi, indicati da figure che, in base ai risultati elettorali del 2018, erano classificabili come opposizione, mentre gran parte della vecchia maggioranza è stata esclusa dalle deleghe. Di fatto la nuova giunta, pur restando nell'area del centro-sinistra, è caratterizzata da assessori indicati da esponenti del centro-destra. Dall'ultimo direttivo i Fratelli d'Italia sono emersi dubbi sulla nuova rutta della politica comunale. Nell'ultimo direttivo del partito di Giorgia Meloni, i vertici locali Luca Lini e Salvatore Quirino hanno chiesto chiarimenti alla consigliera Tabernacolo. Lei ha, infatti, indicato l'avvocato Maria Pirozzi, nuovo assessore delle politiche sociali. Mai con un'aggiunta marcatamente di sinistra e con al proprio interno esponenti vicini del Partito Democratico. Questa è la posizione del partito che ha chiesto alla rappresentante del Consiglio Cittadino di comunicare la sua collocazione nel nuovo assetto politico. Il chiarimento non è tardato. Nella stessa giornata la Tabernacolo ha annunciato in una nota stampa «Nessun cambio di schieramento, ma questo non mi impedisce di votare tutti i provvedimenti che ritengo necessari per il benessere dei cittadini». Il bene della città è lo slogan che ha giustificato il nuovo assetto, ma per alcuni la verità è altrove. Il consigliere Luigi Caldarola ha diramato un comunicato a nome di tutta la federazione. Ricordiamo che la federazione è una corrente formatasi dopo l'azzeramento della vecchia giunta, per accogliere i consiglieri della vecchia maggioranza, contrarie alla scelta del sindaco. Nella nota vengono spiegati quelli che, a detta loro, sono stati reali motivi dietro al cambio di rutta. «È stata una sceneggiata, scrivono, per spostare l'attenzione su una crisi politica inesistente. Per la federazione il vero motivo sarebbe il centro servizi per la nettezza urbana, un'opera per la quale il primo cittadino non avrebbe trovato consensi necessari nella vecchia amministrazione. Un'ampas che, secondo la federazione, avrebbe reso necessario un cambio di rotta drastico». Ad attaccare il nuovo assetto è anche Valerio Ciavolino, che in un duro sfogo critica la crisi politica che ha spostato l'attenzione dai problemi veri della città, come l'emergenza sanitaria ed il caos scuole. «Hanno sistemato le poltrone, si sono accomodati, scrive, dimenticandosi totalmente di Torre del Greco». A Torre del Greco, tre morti in 24 ore, tre soggetti contagiati al Covid-19. Non si arresta la strage legata alla pandemia. Ad annunciare il nuovo drammatico bollettino diffuso da Asla Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale è il sindaco Giovanni Palumba, al termine dell'aggiornamento del centro operativo comunale. A perdere la vita sono stati tre cittadini di 94 anni, 96 e 72. Sale così a 92 il bilancio complessivo dei decessi legati al coronavirus, ben 72 dei quali registrati solo nella cosiddetta seconda ondata. Calano invece i contagi. A fronte ai 17 nuovi casi di positività, infatti, sono state registrate 24 guarigioni. Dati questi che portano il numero complessivo degli attuali infettati a 484, con 27 persone ospedalizzate. Tensione per il focolaio all'ospedale Maresca, con il 70% dei ricoverati nel reparto di ortopedia e chirurgia, risultati positivi. Sono 44 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre annunziata. Al contempo si registrano anche 29 guarigioni. Sale a 719 il numero dei cittadini attualmente positivi, 708 posti in isolamento domiciliare e 11 ricoverati. Invece a Castellammare e Gli Stabia sono 29 i cittadini risultati positivi al coronavirus ieri. 20 di essi presentano sintomi lievi della malattia. I restanti sono asintomatici. Tra i nuovi contagiati ci sono un piccolo di 3 anni e due ragazze di 15 e 17 anni. Risulta un solo cittadino guarito, un 43enne. In questi giorni si sta valutando se ritornare alla didattica a distanza e quindi chiudere alla didattica in presenza. Lei è d'accordo per un'eventuale nuova chiusura? Io penso che la scuola deve stare chiusa. La situazione è ancora grave, non ci sono i sistemi di sicurezza appropriati per i ragazzi che vanno a scuola. Secondo me è da valutare ancora. Non è d'accordo nemmeno con una didattica al 50% o al 70%? Pure al 50% comunque nascono delle problematiche, con delle responsabilità maggiori anche per il corpo insegnante. Una settimana sì, una settimana no. Quindi lei è per una didattica al 50-70%? Sì, penso di sì. Così studiano tutti e non si chiude la scuola. È bene per loro, perché questi ragazzi così non possono stare. Io ho una nipotina che fa l'elementare, sta imparando proprio a scrivere e a leggere, è un dramma così. Non imparerà mai bene bene in questo modo. È importante che vanno a scuola, perché a casa non stanno bene, perché sono ragazzi che comunque hanno subito tanto questa cosa. Se proprio si deve giudere, si deve giudere la scuola, è giusto così. Come crede che la scuola debba ripartire? Con le giuste precauzioni, credo. Io ho mia figlia che va a scuola, fa le superiori, quindi è iniziato da poco. Per come mi dice, poco distanziamento. E poi comunque non è cambiato nulla. Solo il fatto di mettere le mascherine, di portarsi le solite cose per disinvertarsi. Però non è cambiato niente. Il distanziamento è sempre quello là. Quindi sarebbe opportuno, come la vedo io, meglio quando stavano a casa. Anche se è diversa, diciamo, la situazione scolastica da casa e da vicino. Lei ha qualcosa da proporre per la ripresa? Magari una didattica non al 100%, magari al 50% o al 70%. Se partiamo già dalle strutture che abbiamo scolastiche, vecchie, quindi dovremmo tornare centito, a parte la pandemia, già si dovrebbe fare qualcosa proprio da, come si dice, il pesce puzza dalla testa. Quindi si dovrebbe già fare qualcosa a livello strutturale proprio di scuole. Poi si potrebbe fare un discorso più allargato per i ragazzi, per vedere veramente perché, ti ripeto, mia figlia già si lamentavano prima, classi, classi pollaie, quindi stavano stretti. È cambiato poco. La scuola è il luogo dove si fa cultura. Non è possibile pensare a fare scuola da casa. Le condizioni sembrano rispettate, i ragazzi sono distanziati, ci sono difficoltà con la didattica integrata, quindi non sempre la connessione permette la fluidità della lezione, quindi lo svolgimento al massimo. È un periodo molto difficile. Cerchiamo di far fronte a tutte le necessità e a lavorare nel miglior modo possibile. I ragazzi come hanno preso il rientro a scuola? I ragazzi sono felici di ritornare, nel senso alcuni li ho percepito questo sentimento. Naturalmente dipende da tante cose, sono molto preoccupati, come lo siamo anche noi, quindi viviamo non serenamente questa fase. I sindaci dovrebbero monitorare la situazione e ne sanno molto più di noi. Noi ci chiedono di tornare, siamo tornati e cerchiamo di fare il nostro dovere al meglio. Ci vuole tanta tanta attenzione perché vanno a scuola con i dovuti controlli, con le dovute accortenze. Mi rendo conto che da casa non è che si possa fare più di tanto, anche perché per sentire tanti amici che hanno figli piccoli a scuola non riescono ad entrare nel sistema online e quant'altro. Anche perché forse molti genitori che dovrebbero aiutarli non hanno questa conoscenza, come non la tengo io onestamente. Allora credo che con una dovuta cautela dagli insegnanti chiaramente, dalle maestri, dal personale scolastico, che i controlli partono da lì. e secondo me è giusto che ritornino a scuola ma con le dovute cautele perché i bambini sono il nostro futuro chiaramente e sono coloro che andranno a testimoniare nel tempo questa brutta pandemia. Però che i bambini ritornino alla scuola per trovare la loro giusta armonia, le amicizie, i compagni, gli amici, gli insegnanti, il leggere anche con la mascherina a scuola un tratto di un libro di elementari o medie o essere interrogati. Questa emozione ci deve essere per i ragazzi, ci deve essere per i bambini. Continua il momento negativo per la Turris che incappa nella terza sconfitta consecutiva, scivola fuori dalla zona playoff e vede avvicinarsi a soli sette punti la zona playoff. Gli uomini di Fabiano escono dallo stadio Rocchi con molti rimpianti per una sfida che sembrava la portata ma che ha visto i padroni di casa della Viterbese a giudicarsi tre punti con un netto 2-0. Prima parte di gara l'insegna dell'equilibrio con il giallo-blu a fare la partita e Corallini pronti a ripartire. La Turris si rende pericolosa con Romano che dal limite impegna severamente Daga alla deviazione in angolo, poi è Baschirotto a mettere i brividi a portiere Corallino con un gran tiro che sfiora l'incrocio. La ripresa si apre con una bella rovesciata di Rainone che non trova la porta. Al quarto d'ora da un calcio d'angolo la palla finisce in qualche modo ancora a Baschirotto che da due passi batte inesorabilmente a Bagnale per il vantaggio dei laziali. La Turris se fatica a reagire a pochi minuti dalla fine subisce il contropiede di Murillo che serve Tunkara a centro area per il facile 2-0 che chiude il match. Ora i Corallini sono chiamati alla reazione per non essere risucchiati nella zona calda della classifica. Domenica prossima l'impegno interno contro il pericolante Bisceglie sa già di scontro diretto. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto e vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.